salve a tutte e tutti innanzitutto un mio saluto con molto affetto al nostro caro amico claudio wolf che sta in youtube e in google plus come claudio wolf e che invece sta come claudio show in facebook e poi naturalmente un saluto a tutti i nostri amici di cal di rcd no r radiocalcio si rcd radiocalcio dilettanti perché trasmettono della buona musica seguo sempre il nostro amico claudio wolf nel suo canale di youtube e devo dire che i suoi video sono molto molto interessanti molto belli poi perché trattano di un tema a me molto caro che è quello della letteratura anche se seguo i suoi video sui videogiochi oppure visto uno sul sull'isola dei famosi o sulla casa dei famosi vabbè comunque bisogna dire una cosa che il tema del giorno non era questo quindi adesso dopo che ho salutato il nostro amico claudio wolf e claudio show e tutti i nostri amici di radiocalcio dilettanti quindi rcd discusso un po con voi che mi tolgo il pullover che c'è caldo programma viene un po così io il giorno delle elezioni o meglio perdono il giorno del dibattito presidenziale del primo dei tre dibattiti che si faranno se non mi sbaglio fra donald trump e hillary clinton purtroppo ho avuto un occhio irritato perché la mattina del giorno prima o la stessa mattina mi sono fatto uno shampoo allora avevo l'occhio che era realmente rosso come un pomodoro e in quelle condizioni non solo non mi potevo filmare ma non potevo neanche pensare in italia poi erano le prime ore del mattino quando si è svolto il dibattito mentre invece che il fuso orario qui in accordo a quello degli stati uniti era di un'ora in avanti con washington quindi io lo vidi in diretta alla notte non so se alle 10 di notte poi non lo vidi tutto e sono riuscito ieri se non mi sbaglio a fare un video commentario sul dibattito presidenziale pre elettorale fra donald trump e hillary clinton e l'ho caricato in youtube quindi quanti di voi saranno interessati a vedere il mio video lo potranno vedere in youtube intanto però io ho deciso di fare una trasmissione radio perché le cose funzionano in questo modo se io faccio dei video per youtube tralascio la mia stazione radio spreker se io faccio dei programmi sprecher tralascio di fare video per youtube se io faccio video per google plus tralascio ambedue poi adesso che finalmente instagram ci dà l'opportunità di fare dei video di un minuto e non di 15 secondi se faccio video per instagram tralascio sprecher youtube e google plus e se faccio video per facebook tralascio instagram google plus facebook sprecher qualcosa devo tralasciare per quanto riguarda il succo la polpa l'essenza del programma di oggi perché sprecher ci ha ridotto a 15 minuti gratuiti il tempo che abbiamo a disposizione altrimenti avrei fatto un programma di 30 minuti come nel passato che dal 2013 faccio dei programmi larghissimi magari molto dispersivi in questo modo mi devo concentrare e parlare di quello che voglio parlare in questo caso il titolo è breaking news ultime notizie the first usa presidential debate donald trump versus hillary clinton io ho seguito fino a che ho potuto fino a che non mi sono rotto le balle le argomentazioni di entrambi mi sembra che parlavano più che altro al ventre dell'elettore nord americano ognuno cercando di sputtanare l'altro e di smerdarlo come direbbero gli opinionisti e i politologi nessuno dei due apportando invece delle serie argomentazioni si sono aggrediti sul piano personale molti dicono che il primo match lo ha vinto hillary clinton qualcun altro lo ha vinto donald trump io penso e cogito se avesse la ragione hillary clinton di tutte le cose brutte che dice circa donald trump i nord americani perlomeno dovrebbero essere preoccupati se non il resto del mondo visto che si sta parlando non di san marino di malta dello stato del principato di monaco dell'ichstein o addirittura del vaticano ma di chi diventerà presidente di una iperpotenza come gli stati uniti che anche se sono in declino hanno lo stesso armi sufficienti per distruggere dieci volte il mondo e a quanto pare lo stanno già facendo quindi se avesse ragione il rally clinton di donald trump sarebbe molto preoccupante per tutti non solo gli statunitensi se d'altro canto donald trump ci avesse ragione delle sue critiche contro hillary clinton che negli stati uniti è accusata dall'opinione pubblica ma anche dai giudici di vari loschi affari tipo le mail che avrebbe inviato da un account da un server privato quindi non tanto da yahoo da google plus ma proprio da server suoi quindi sarebbe anche quello drammatico se ci avesse ragione er donald trump nel dire che hillary clinton è inaffidabile perché non ha le condizioni fisiche perché ha fatto è stata responsabile con barack obama di tutte queste primavere arabe di finanziare l'isis che anche lei lo ha riconosciuto ma il mio forte dubbio è che in realtà la cosa peggiore è se avessero ragione entrambi nel criticare l'altro tanto donald trump come hillary clinton allora sì che staremmo messi male perché non ci sarebbe un'alternativa migliore neanche ci sarebbe un'alternativa peggiore qualsiasi dei due che vinca e forse bernie serni sarebbe stato migliore però grazie agli email della clinton bernie sanders ha perso o come diavolo si pronunci per me hanno ragioni entrambi tanto trump di parlare male della clinton tanto clinton nel criticare e criticare trump e questa è la cosa veramente peggiore che può succedere negli stati uniti per la politica nord americana e per la politica mondiale io credo che effettivamente hanno entrambe ragioni tanto la clinton come trump nessuno dei due è migliore dell'altro nessuno dei due è anche peggiore dell'altro sono tutte e due dei loschi figuri donald trump un faccendiere che ci fa ricordare un impresario nostrano che si è messo prima nell'edilizia ammontonando un sacco di cause poi grazie gli ha consigliato di mettere dei canali televisivi per fare della propaganda elettorale e politica e anche lì ha evasso tasse con i diritti d'autore tanto si è riciclato del denaro per mettere delle antenne ha strappato un'antenna di qua di là le ha accumulate tutte e poi si è buttato nella politica per salvarsi dai processi dell'edilizia come palazzinaro e dai processi perché non ha rispettato in pratica le regole di trasmissione senza licenza trasmetteva in diciamo in tutto il territorio nazionale non come altre reti televisive come la GBR, Telemonte Carlo eccetera e poi il suo trucco è stato quello che trasmettevano in diretta di ferita cioè non potendo avere la diretta registravano il programma e lo iniziavano a trasmettere con un intervallo di 5 minuti quindi in pratica era in diretta tu vedevi il programma con un ritardo di 5 minuti quindi tecnicamente non era una vera diretta ma era indifferita cosa che faceva anche la RAI a quell'epoca quindi per così dire trasmetteva in diretta ma non lo poteva fare perché non poteva trasmettere in tutto il territorio nazionale eppure lo faceva e quindi quando è entrato in politica diceva che era un perseguitato politico perché lo si voleva processare ma gran parte dei primi processi avevano a che fare che poi sono caduti in prescrizione con le cause penali e amministrative che aveva accumulato quando era un impresario edile e poi con le cause che gli facevano per la televisione quando ancora non era entrato nella politica quindi si è sempre dichiarato un perseguitato politico Donald Trump ha dichiarato più di 5 bancarrote non pagando i suoi dipendenti ha fatto come singolo Berlusconi ha sempre detto di essere un perseguitato perché aveva successo e tutti gli avevano invidia l'Irary Clinton è stata consigliere di Stato qualcosa di genere di Barack Obama che ha vinto due volte e si è visto che cosa gli hanno fatto all'alleato Gaddafi a Saddam Hussein che non aveva armi di distruzione di massa a Mubarak che era fedele alleato degli Stati Uniti e vabbè e stanno portando il mondo allo sfascio votando Hillary Clinton sia più di quello che è successo con Barack Obama votando Donald Trump si avrà di più di quello che è successo con Bush padre Bush figlio Reagan e tutti i politici reazionari e repubblicani c'è chi dice che ci sono state più guerre con i democratici c'è chi dice che ci sono state più guerre con i repubblicani ma alla fine chi governa negli Stati Uniti è la finanza l'industria le banche le lobby la massoneria forse tutte le società segrete tutte le corporazioni la trilaterale i Bilderberger lo sapete bene voi quindi il presidente ovviamente ci sono state epoche in cui i presidenti degli Stati Uniti erano dei perfetti imbecilli eppure la politica e l'economia sono stati molto forti quindi basta che prendano il pagliaccio più affidabile che la gente gli fanno credere che può scegliere un pagliaccio di turno per poi governare loro certo a volte scelgono di essere rappresentanti da un cattivo pagliaccio è più che una farsa viene una tragedia per loro adesso c'è 55 secondi vi lascio questo è stato il mio pensierino del giorno un saluto a Claudio Show a Claudio Wolf in YouTube e a tutte e tutti voi cari amiche ed amici guardatemi in YouTube io sono Santenchan non lasciate di seguirmi qua in Spreaker c'ho 30 secondi mi raccomando allora grazie di seguirmi questa è stata la mia idea chiunque vinca negli Stati Uniti vincerà sempre il peggiore poi hanno ragione l'uno dell'altro nel parlare male l'uno dell'altro 10 secondi vi saluto voglio fare il programma fino all'ossicino è stato un piacere poter trasmettere dopo tanto tempo in Spreaker arrivederci ciao mi raccomando non lasciate di seguirmi